Scusami Enrico, fatto le foto? Allora, giurati voi siete pronti? Giriamo il numeretto per favore. Giriamo il numeretto e iniziamo subito a sfilare. Vedi ritorno alla fantasia floreale? Sono delle margherite? Quest'anno è di moda. Mama non mama. Partiamo con il numero 37. Giuditta De Michele. Giuditta. 37. Giuditta De Michele. Numero 36. Francesca Pugliese. Con il numero 14 portato a mano... Paola Tiano. Allora, Monica. Con Paola abbiamo tutta la famiglia Tiano qui sul palco. E dica a me, tra Antonella, la cucina e Paola ci siamo. Ricordiamo ancora, Paola sfila con il numero 14. Con il numero 12, direttamente dall'America, la nostra Jennifer Lopez dei giochi... Nancy Aquino! Nancy! Perdonati, abbiamo notato anche il Pierce Forse qualche anno fa No, era carino, però ho visto che ce l'hanno praticamente identico Numero 23 Anche lei non è stata fortunata con il numero Numero 23 Ma non è tanto il numero quanto la bellezza fare la differenza Lei è Anna Gallo Anna Gallo, numero 23 Anna Gallo con il suo costume bianco Poi Il tuo colore preferito Yes Bianco come la purezza Certo Con il numero 2 Michela Scotti Ha fatto tutti i giochi Praticamente li ho fatti tutti Ha detto stasera vi faccio anche la sfilata Così faccio l'hombrello Sfila con il 108 Un attimo, scusate L'ultima ragazza che ha sfilato Nome e numero Allora, Michela Scotti Numero 2 2 Eh, voglio un caglio Eh sì, è giusto Scusateci Presi dall'euforia Li dico tanta bellezza Ci siamo persi un attimo No, no, forse La musica c'è in qualche modo Sì Anche per dire Sempre sotto pressione La prossima ospite Che sfilerà per noi E questa È un'esclusiva assoluta Qui sul palco di Vivi dell'estate La prima volta Solo per noi La numero 22 Non abbiamo fatto sfilare Franco stasera Scusate L'abbiamo annunciata Ma non ha sfilato Ero preso Lusi Perché ieri abbiamo fatto la sorpresa Alla 22 Ok Dopo dico il nome Allora Ritorniamo quindi nel vivo della gara Numero 108 Lucy Scott Lucy Lei non è della squadra di AMP Lei è AMP Anzi qui abbiamo sudato per convincerla a salire sul palco La numero 22 Giorgia Farinaro Ok ragazzi prego Ragazzi prego per l'ultima sfilata E intanto accogliamovi con un applauso Grazie a tutti Eh cari giutati La vedo dura la vedo dura allora iniziamo con il numero 21 Ferdinando Cacciapoti 21 andiamo avanti con il numero 15 Andrea Massa numero 5 Davide Capuano 5 Franco come sei passivo però eh quando ci sono i ragazzi a sfilare oh no no non voglio rubare il tuo spazio quindi capito sto buono numero 11 Luigina Sti ma non stai nemmeno guardando gli impastarelli guarda che sono creative queste ragazze non è vero tanto è vero che volevo dire che alcuni ragazzi sculettano più delle ragazze questo è il numero 11 sono anche un po' più oleati delle ragazze eh sì allora andiamo avanti con il numero 7 Evandro Scoccio Evandro numero 7 numero 8 Ivan Trimani numero 8 numero 9 se non sorride non lo chiamo Antorino Antorino del Gaudio numero 9 poi troviamo con il numero 10 Stefano Castillo numero 10 numero 10 numero 9 numero 9 numero 10 numero 10 infine troviamo il numero 16 Gianni Nardone attenzione c'è un trucco attenzione numero 16 dietro le quinte diceva è tutto vero ecco il mamma mi ha fatto più probabile che tu vinca mister vivi l'estate o che se ci vinca il titolo più probabile che abusca la mamma perché per fare questo ho usato la matita per gli occhi e glielo ho rotto a tutti molto probabile allora molto probabile e vediamo le sfilere ancora una volta ragazzi del concorso mister vivi l'estate 2014 Siete solo voi mettiamoci più a centro mettiamoci più a centro devi sapere che lo spettacolo non è tanto davanti ma dietro perché c'è un continuo c'è un continuo cambiamento no dai franco però sei tu che sei malpensante dai allora lo spettacolo del backstage preferisci così? sì no lo spettacolo del backstage immagino sarà grandioso e quindi dicevamo i cambiamenti sono costanti ed ecco che l'ultimo gruppo è più sfoltito c'è stato qualche cambiamento finale ma noi passiamo subito a presentarle ma perché dei numeri così alti? 206 206 dobbiamo chiederle alle organizzatrici presidente no era una curiosità Louisiana Scotti guarda che bel costume che ti sei messo stasera eh? vogliamo presentare basta lasciate la mano perché deve sfilare adesso con il numero 13 Aurora Scotti numero 13 13 come era il mio amico Peppe il mio amico Peppe Mancino dove? eh no ah tu ti sei messo proprio al centro ho capito proprio per vedere su Peppe Mancino devo intervenire sì perché anche stasera mi ha martellato sì ti devo leggere tutti i messaggi privati che mi vanno pure dalla mattina per la sera non mi hai fatto far parte della giuria sono quattro anni che te lo chiedo voglio far parte della giuria Peppino tu non hai nemmeno tre ore di caserma come vuoi far parte poi l'ha fatto mezz'ora e se ne scappa e se ne scappa come puoi va bene meno male allora stai lì e guarda senti ma numero 202 tua mamma dove sta? non ci sta Nicola Mancino prontamente detto non c'è ma tu che ne sai perché lui controlla tutto è la dogana di acqua morta allora Fantasia Floreale anche per lei con il numero 202 Ellie Catugno numero 202 in compenso però ho trovato la mamma di Aurora ciao ciao Floriana nostra amica per la sagra del mare e non solo per carità 205 Valentina Costigliola io mi fermo perché già so che qualcosa devi dire sono convintissimo no particolarmente azzeccata la scelta del costume questo verde fluo del pezzo di sopra è veramente molto bello alla regina tutto a posto possiamo continuare c'è ancora vita ok no chiedevo capisci ah poi c'è una alla regina siamo sicuri che è tutto a posto ok allora con il 206 l'abbiamo conosciuta quest'anno con i giochi di Vivi l'Estate lei è la bellissima Sara Romeo 206 continuiamo con il numero 207 l'ho iscritta direttamente io al concorso benedetta scotto di Santolo 207 e ancora concludiamo quest'ultimo gruppo con una ragazza esterna perché il concorso ovviamente è aperto anche a chi non ha partecipato ai giochi Vivi l'Estate con il numero 209 Gaia di Napoli ok io vi chiederei di fare l'ultima passarella prima di uscire facciamo un grande applauso per queste ragazze a a a a a a a